buon di si fa per dire in realtà ragazzi buon martedì a tutti quanti voi come va allora notizie non troppo positive in realtà di questo che parleremo e poi parleremo sempre delle ultime legate agli impegni della juve è al mercato prima di iniziare vi invito ovviamente iscrivervi al canale e a sostenere tutte le attività che faccio qua alla fine crea un angolo di discussione anche per voi per cui mi raccomando seguite il mio video il mio video visto che la maggior parte di voi non è iscritto al canale iscrivetevi vi invito ragazzi a scaricare l'app di onefootball perché lei è stata la prima ad avvisarmi di questa beffa e quindi insomma ne parliamo ora l'app è gratis android ios trovate il link in descrizione iniziamo subito al volo al volo al volo paul pogba ha una lesione al menisco esterno rischia di essere operato la juventus l'ha tenuto fermo per precauzione ha fatto delle analisi approfondite hanno trovata questa problematica e molto probabilmente verrà operato negli states visto e considerata comunque la presenza degli stessi della stessa juventus la può essere un insomma un buon un buon momento per attuare direttamente questo tipo di cura ecco al povero paul tanti li ho visti in panico nel panico più totale invece è proprio in questi momenti che serve calma gesso ed essere chirurgici senza farsi prendere dal panico iniziamo da pogba quanto tempo rimarrà fuori da uno a due mesi con l'operazione questo più o meno è il tempo che paul pogba potrebbe metterci per tornare in forma ora un mese siamo al 26 di agosto due mesi siamo al 26 di settembre perde un bel po di partite la verità è questa perché abbiamo un calendario bello zippato per via del mondiale quindi perderà un bel po di partite noi ci auguriamo di averlo entro un mese perché starebbe a significare che ragazzi alla fine ne perde due tre partite in inizio campionato e poi insomma giocherebbe immediatamente con la juve per tutti gli altri impegni però insomma può essere anche più lungo il tempo di recupero e su questo bisogna saper pazientare e magari correre dalle contromisure sul mercato ma ripeto con molta calma senza sborsi e senza panico senza sborsi da paura perché l'esborso ci sarà in ogni caso in caso la juventus decida di andare sul mercato è normale che qualcosa la spenda però spendere con criterio e che senza farsi prendere dal panico anche perché ripeto è un infortunio relativamente breve perché comunque si è infortunato in un periodo di preparazione dove non ci sono partite e quindi insomma c'è tutto il tempo per poter scegliere un'altra figura magari al centro campo paredes punto di domanda vediamo comunque questa è la situazione di Pogba nei prendiamo atto e vediamo un po' la dinamica come può essere successo ragazzi non è un infortunio imputabile ad una condizione di allenamento o di stress è una situazione traumatica può essere un movimento fatto male da parte di Paul può essere uno scontro di gioco possono essere tante le cause ma non possono essere imputabili a mio parere alla quantità e alla qualità dell'allenamento che la juventus in quel momento stava facendo per cui la caccia alle streghe a folletti e in questo momento evitatela perché ahimè non c'entra nulla ahimè dico perché magari avessimo un capo espiatori e su cui vomitare tutta la nostra rabbia in questo momento non ce l'abbiamo bisogna saper accettare queste cose poi ripeto attenzione perché la figura di giovanni andreini di cui vi ho parlato nel video di ieri c'è anche per supervisionare tutto il lavoro atletico medico e la gestione degli infortuni dei ragazzi quindi abbiamo un supervisore che in questo momento cercherà di prefezionare ogni area che magari è meno performante del solito quindi si ripeterà un'altra stagione come quella dell'anno scorso probabilmente l'anno prossimo cambieranno tante tante cose al riguardo visto e considerato che abbiamo un head of performance quindi questo voglio dirvi state calmi non partite subito in quarta perché quando succedono queste cose vedo che la reazione è scagliarsi contro qualcuno contro qualcosa contro e bisogna invece bisogna avere calma calma tanta calma ora la tournée in america ne usa continuerà la juventus andrà a giocare a dallas già in viaggio in realtà stanotte c'è stanotte praticamente fatti la live ragazzi partirà dalle due circa ci guardiamo sta partita insieme per chi c'è insomma ecco alle due e mezza inizia sta partita contro il barcellona e poi vediamo che cosa succederà Pogba ovviamente è rimasto a las vegas occhio anche quindi a questi a questi eventi perché c'è tanto comunque anche da guardare oltre l'infortunio di Pogba per quanto riguarda il mercato la juve è sempre molto attiva lato paredes a quanto pare ci sono dei dialoghi avanzati paredes già da due mesi voleva dire sia la juventus però non si è fatto ancora nulla la valutazione del psg è intorno ai 25 milioni vediamo se si riesce ad effettuare magari con qualcosa o con qualche scambio con qualche soluzione economica particolare come prestito con obbligo di riscatto o altre situazioni simili vediamo come la juve vorrà gestire questa cosa sta di fatto che prima di gestire questa cosa la juve deve sempre pensare a sfoltire perché altrimenti aggiunge un 1 al numero di centrocampisti si fa fatica chi potrà andare via beh a quanto pare Arthur Arthur non solo ha l'interesse dell'arsenal ma c'è anche il Valencia su di lui Valencia che ha mostrato grande attenzione nei suoi confronti vediamo perché qualcosa può cambiare lui potrebbe tornare comunque in liga spagnola vediamo se con che formula la cosa che spaventa sempre che sono ingaggi tanto elevati non so quanto il Valencia sia disposto ad assicurare ad Arthur uno stipendio sopra i 7 milioni in itia stagione non credo che riesca e credo che sia fuori dalla loro portata però se lo stesso Arthur è disposto ad abbassare la sua la sua quota di ingaggio magari si chiude anche una bella operazione lato prestito con obbligo di riscatto insomma qualche cosa strana perché poi ripeto il valore residuo di Arthur è abbastanza elevato e non so se il Valencia ha voglia di spendere oltre 40 milioni per Arthur in questo momento magari l'anno prossimo sono 30 ed è più fattibile con un prestito oneroso si riesce magari a fare un'operazione differente occhio quindi ad Arthur occhio anche a Rabiot lo sapete lo sapete che è da monitorare in under 23 ha fatto anche delle foto con dei ragazzi con uno di ragazzi con cui si sta allenando doveva essere c'è anche un amichevole contro l'Atalanta con l'ander 19 dell'Atalanta ma in me questa amichevole non è stata fatta per problemi non lo so di programmazione non lo so che cosa è successo ho fatto stare saltata però vedere rabbia in azione con l'ander 23 mi stuzzica e faccio se fanno ragazzi qualche qualche amichevole lo voglio vedere per capire in azione quanto e più degli altri ecco dal punto di vista fisico tecnico e tattico sono proprio curioso e altre novità ragazzi credo che ci sia veramente poco a parte ripeto è stata ufficializzata la partnership tra esports con la juventus quindi la juventus torna su fifa che sarà il videogioco di punta l'anno prossimo molto probabilmente quindi fatta questa cosa significa che abbandonato konami e dei football questa è la vera novità e basta niente di che c'è stato un bel video di presentazione dove c'è la voce di marchisi al voice over che racconta un po' l'importanza della juve bla 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 il fino alla fine ciao 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 tutta questa roba qua detto questo ragazzi non so se ci saranno informazioni sul mercato di pomeriggio sono giorni abbastanza spenti in realtà però ripeto stanotte in ogni caso c'è la partita quindi volente o nolente ci vediamo comunque più tardi o molto tardi o magari anche nell'inter mezzo oltre che tardi signori questo è tutto io vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine forza juve ragazzi sapete che anch'io sono infastidito dalla situazione a pogba però ha senso prendermela contro chi non la colpe no non credo ok ciao